Ultimo giorno a Venezia, volevo un po' tirare le somme e fare due chiacchiere perché come sapete questi giorni sono stata sempre una scheggia di corsa. Per me è stato molto speciale ovviamente perché quest'anno non ero da sola e c'è stato anche tutto un lavoro dietro molto diverso. Volevamo anche comunicare un po' una Giulia inedita. Fatemi sapere appunto se vi sono piaciute le scelte che abbiamo fatto, i colori utilizzati, il make-up, il capello, i gioielli, i vestiti, insomma. Sicuramente una cosa è cambiata ed è il mio attitude. Magari prima avevo tutta con molta più ansia e anche con una pressione dove subivo maggiormente le critiche negative. Sarà che la gravidanza ti porta un po' a spostare le priorità e quindi a un certo punto dici ma chi se ne frega. e quindi bene, spero che questa cosa mi porti sempre più a crescere, a maturare. È un nuovo capitolo. Ed eccola qua la nostra Giulia Off Duty. Solo lei può stare bene con questa masca. Ah ok, trasformata, ci sta. Un bacione, ciao! Ciao!